Situazione di parità quando manca un minuto allo scadere, rinvio del portiere, pallone conquistato dalla squadra di casa, avanza il capitano, si libera dalla marcatura, si sposta al centro, apre sulla fascia, triangolo, ancora lui, si dirige verso l'area di rigore, ostapolato da un difensore, lo vette a sedere, passa la palla al compagno che di prima gliela restituisce, limito nell'area, deriva un avversario, un altro, è solo davanti al portiere, pinta, tiro, prende, prende, incredibile! Incredibile, un'azione straordinaria!